Secondo la teoria formulata da Jean Piaget, i bambini sono in grado di apprendere attraverso due processi fondamentali, l'assimilazione e l'accomodamento. L'assimilazione avviene quando i bambini integrano nuove informazioni con quelle preesistenti, ampiando così le proprie conoscenze. L'accomodamento si verifica quando i bambini modificano le proprie convinzioni per adattarsi a nuove informazioni ed esperienze, creando una visione più accurata del mondo circostante. Questi due processi giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo cognitivo dei bambini, consentendo loro di approfondire la loro comprensione della realtà e di potenziare le proprie capacità cognitive in modo efficace.